Distrugge due telecamere di videosorveglianza che l'ex fidanzato era stato costretto a piazzare attorno alla propria abitazione a causa delle continue molestie ricevute dalla donna con la quale in passato aveva avuto una relazione. Colta in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Delia, è stata tratta in arresto con l'accusa di stalking. Si tratta della 32enne romena Radamayalt, già conosciuta ai militari. I carabinieri infatti insospettiti della presenza della donna incontrata a Panzica, a Delia, luogo di residenza dell'ex fidanzato, decidevano così di seguire i suoi spostamenti, vedendola pochi istanti dopo distruggere le telecamere di videosorveglianza e decidendo così di intervenire. La donna, ossessionata dall'idea di voler tornare assieme all'ex fidanzato, nei mesi passati si era resa già responsabile di numerosi atti persecutori, dalle ripetute molestie telefoniche ai pedinamenti alle piazzate sotto casa sino ai danneggiamenti, motivo per il quale la vittima nel mese di febbraio aveva a sporto formale denuncia. Un'ossessione che aveva portato la giovane romena a violare il domicilio dell'ex fidanzato e a rubare una fototessera dello stesso, che è stata poi rinvenuta nella tasca dei suoi jeans dopo la perquisizione a seguito dell'arresto. Motivo per il quale l'uomo si è visto costretto ad installare le telecamere che hanno filmato numerose volte la presenza ingiustificata della donna, la quale in un'occasione a seguito di una violenta alite schiaffeggiò l'uomo. La donna ora si trova nella sua abitazione agli arresti domiciliari.